ciao sono franco tevito operatore come ti chiami? Elia. Da dove vieni Elia? Sono a Mantovano. Oggi fa il tandem è un tuo desiderio o un regalo? E' un regalo ma era un mio desiderio. Era un tuo desiderio. Quindi hanno fatto un bel regalo. Questi desideri. Tu hai fatto un regalo? Sì, l'ho fatto anch'io. L'ho accompagnato. Perfetto. Benissimo. Allora ti hanno già spiegato quello che facciamo? Ti ricordi tutto mi raccomando. Non ti dimenticare che lui è uno che si scorta facilmente. Tu dì quello che deve fare. Benvenuto al campo volo di Reggio Emilia e ci vediamo tra poco in aereo. Guarda davanti che ci sono io e divertiti. Sì, era questa parte. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bella esperienza E va bene Quello è normale Quello è abbastanza normale Grazie Vieni qua Big man Bravo Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti